tanto eh lo so ma non ho abbastanza spazio occhio occhio attenti si mi sembra di si attenzione mannaggia al diavolo aia 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 grande eh tuo cugino mio cugino mio zio è un altro giocatore che non vedo più è il numero 10 il 10 chi è? è il numero 10 10 non lo conosco Davide mi sembra a Matteo vedi? ho sfigato le pombo 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 oh fino ad ora abbiamo superato una volta la metà campo sono un po' liberi sono un po' liberi eh dove è l'altro? quello con la casacca arancione è perché è uguale ai nostri è nero vabbè che c'è una frega basta che si vede eh ma poi metti che gliela passi a lui lui non fa niente è sbaglio eh ma basta che non c'è il numero eh ma da lontano non si vede dove è il numero 10 quello là il 10 boh non so chi sia cioè magari il nome se so il nome ma no punizione nostra incredibile dai 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 arca angolo angolo no l'ha presa no angolo il vignale boh classifica in alto no gli angoli corti no gli angoli corti in che senti? eh sarò in anticipo mannaggia il diavolo eh aia aia c'è 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 buona